Il Presidente, il Presidente, il Presidente... Il Presidente dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, è tenutosi nella sala Vasari del complesso Sant'Anna dei Lombardi. A spiegare quali siano gli obiettivi del triangolare di calcio di Scampia, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Edoardo Cosenza. Andare sui luoghi, un simbolo della città, come Scampia, perché il torneo triangolare di calcio si terrà a Scampia, proprio perché crediamo che Scampia non sia un simbolo di illegalità, ma deve diventare il simbolo della ricrescita. Così come già siamo riusciti anche con l'università a San Giovanni a Teduccio, col polo tecnico-scientifico, che è diventato un esempio napoletano-campano del meridione di sviluppo. Quindi noi vogliamo ribaltare il pensiero comune e ricordare che gli ordini professionali esistono come presidio soprattutto di legalità. Lo stadio di Scampia è intitolato da Antonio Landieri, disabile 25enne, vittima innocente della faida di Camorra che insanguinò il quartiere nel 2004. In rappresentanza degli avvocati ascoltiamo Dina Cavalli, Vicepresidente dell'Ordine. L'evento di oggi ha l'intento di ricordare quello che è il ruolo sociale dell'avvocato. In questi momenti di crisi delle istituzioni, crisi dei valori, sicuramente bisogna riaffermare fortemente l'etica e la morale che nelle libere professioni deve essere ancora più forte. Ma soprattutto i professionisti e gli avvocati devono tornare ad essere anche un volano per la società civile, uscire dai tribunali, uscire dagli studi e dare un contributo per la diffusione della legalità in tutta la nostra città. Che cosa dobbiamo aspettarci adesso? A rispondere il Presidente dell'Ordine degli Architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori della provincia di Napoli, Leonardo Di Mauro. Il controllo del territorio, la costruzione del territorio deve avvenire attraverso in una maniera eticamente giusta, legalmente rispettosa delle leggi, esteticamente con attenzione a quello che è l'aspetto estetico della città, che deve essere armonioso e in qualche modo non può essere devastato, e tecnicamente ben costruito.